FCA ha siglato un accordo definitivo per la cessione di Magneti Marelli a CK Holdings, holding di Kalsonic Kansai Corporation, uno dei principali fornitori giapponesi di componentistica per autoveicoli. Al termine dell'operazione, CK Holdings sarà rinominata come Magneti Marelli CK Holdings. Le attività congiunte di Kalsonic Kansai e Magneti Marelli rappresenteranno il settimo gruppo indipendente più grande al mondo per fatturato nella componentistica per autoveicoli. Il controvalore dell'operazione è pari a 6,2 miliardi di euro. L'operazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2019 ed è soggetta ad approvazioni da parte delle autorità regolatorie e ad altre consuete condizioni di chiusura. L'operazione, si legge in una nota, rappresenta un'opportunità unica di combinare due business di successo per creare uno dei principali fornitori mondiali indipendenti di componenti automobilistici, con un fatturato complessivo di 15,2 miliardi di euro. L'integrazione è un passo decisivo verso l'ambizione strategica di entrambe le aziende di diventare un fornitore di primo piano, diversificato a livello globale. L'azienda combinata sarà guidata da Beda Polsenios, attuale CEO di Kalsonic Kansai, basato in Giappone. Emano Ferrari, CEO di Magneti Marelli, entrerà a far parte del board di Magneti Marelli CK Holdings. L'azienda combinata è un'ottima di 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 un'ottima